E Megan Bruno, 17enne dell'Emilia Romagna, la vincitrice dell'edizione 2015 del Fashion Award diretto da Carmen Martorana. Grande successo per l'evento conclusivo del Fashion Award Top Fashion Model, che si è svolto nella piazza principale di Giovinazzo, nel Barese, con una passerella speciale allestita sulla Fontana dei Tritoni. Assegnati i tre titoli istituzionali e i premi tecnici, Megan, dalla bellezza nordica, ha convinto la giuria con la raffinatezza dei tratti e la grazia del portamento in passerella. È stata premiata dal presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer Giuseppe Fata, ente che ha concesso l'alto patrocinio alla manifestazione. La ragazza vince una borsa di studio del valore di 500 euro e una crociera offerta da MSC Crociere. Insieme a lei hanno conquistato il titolo Eleganza, la Barese Natasha Damiani e quello Bellezza, la romana Carol Tridici. L'elezione delle tre vincitrici è venuta al termine della due giorni dedicata alla moda, organizzata dalla responsabile nazionale Carmen Martorana, sotto la direzione artistica dello stilista Roberto Guarducci, che ha visto le ragazze a corse a Giovinazzo da tutta Italia cimentarsi con shooting fotografici e fitting di preparazione per il defile finale. Top Fashion Model si conferma così, fucine di giovani talenti della moda e anche rete di professionisti del settore, una kermessa che nel 2016 oltrepasserà i confini nazionali, estendendosi a Canari e Baleari.